...è solo con la voce, attenzione, via! Sono partiti! Una buona partenza del Sesti Levante, buona anche quella dell'Urania, ma c'è sempre Artuso che non utilizza le gambe. Questo vuol dire che penalizziamo parecchio questa prestazione. Abbiamo Sesti Levante, leggermente avvantaggiato. Sì, sono partiti! Giro di Boa anche per il Sesti Levante. Buono ritmo le Sesti Levante, buono ritmo! Equipaggi sulla stessa linea, finalissima, finale Juniores! Vediamo Sesti Levante che sta velocemente andando verso la sua ultima Boa. Giro di Boa per l'Urania insieme al Sesti Levante. Sintomo che il Sesti Levante è più avanti. E vanno con un buon margine di vantaggio a concludere l'equipaggio Juniores del Sesti Levante. Un applauso per questi ragazzi. Grazie! E arrivano anche, eccoli qua, l'equipaggio del club sportivo Urania. Intanto... Grazie!